andiamo prova tecnica stiamo leggendo possiamo andare via andiamo vai si parte on board carrocciolo si spinge il casco massima sicurezza eccolo con vino superato stiamo andando più o meno di 30 km orari attenzione siamo on board vi stiamo facendo vedere il percorso domenica 9 novembre caricatini bagni più o meno una gara più o meno si spinge si spinge noi siamo nella prima parte abbiamo superato la parte in pendenza adesso c'è la seconda curva e gambe muscoli gambe muscoli il cuscinetto stringe molto in curva scatta la pendenza finale direttamente davanti all'ingresso della protezione civile poi frenata gomigola monte carlo entrata perfetta si rallenta ultimi 30 metri questo è il percorso che abbiamo disegnato per voi